...di risorse dalla difesa all'ecologia. Ormai l'eliminazione del viverium è universalmente considerata una questione prioritaria rispetto al contenimento. Bentornato, caposettore. Crescita e corelle Q su pianeta precedentemente inseminato. Prepararsi alle procedure di raccolta. Cambio di rotta completato. Approccio planetario. Procedura di avvio in fase normale. Analisi tattica. Non so se riesce a sentirmi. Civiltà indigena altamente in stabile. Crescita e corelle Q indica autodistruzione attualmente in corso. Concentrazioni primarie di Eichor identificate. Coordinate inserite. Sequenza di schieramento attivata. Unità da trasporto in movimento a velocità massima. È stata la morte della paura. Nascita della luce. Reazione ostile in attesa. Arma energetica attivata contro i trasporti. Possibilità di evasione ridotta. Funzioni di dispersione difensiva attivate. Danni minori al trasporto. Unità di raccolta completamente intatte. Procedere sul bersaglio. Schieramento. Adesso è prematuro. Nuova alba sorge. Il futuro... Avvio scansioni superficie. È nostro. Le analisi indicano popolazione indigena pericolosamente antiga. La trasformazione giunta. Annullare lo schieramento caposettore. Ah! La missione non sarà annullata. Non esistono precedenti di resistenza indigena significativa dopo la detonazione di Aikon LQ. Il Supremo ne sarà intrigato. Procedere con la raccolta come deciso. Supervisore, registro un'obiezione. Operazioni di raccolta valutate con difesa soglia. Unità non adatte a una resistenza prolungata a forze organizzate. Viso organizzati. Allontanare le forze indigene dai ripetitori durante la costruzione. Obiezione respiva. Piano accettato. Inviare obiettivi rivisti a tutte le unità. Avviare diversivi tattici sui maggiori centri abitati. Ma quando sono grosse quelle cose? Oh cielo, ci stanno invadendo! Corriano! Dio! Che cosa è da vivo? Via! Via! Suggerisco di cominciare distruggendo l'intera regione. In questo modo provocherà una reazione e potrà valutare le capacità difensive dell'avversario. Unità sottata. In questo modo provocherà un'intera regione. Che cosa è da venire? Unità sottata. Unità sottata. Lo richiediamo. Il campo di battaglia ampliato. Unità nemica rilevata. I rinforzi sono arrivati. Trasmissione in avanti. La risposta c'è stata. Distrugga tutti i nemici che incontra, insieme a tutte le loro strutture di produzione. Abbiamo inviato un drone per facilitare la costruzione della base necessaria per l'offensiva. Unità sottata. Unità persa. Anno! ricevuto nuovo obiettivo Thanos. ricevuto nuovo obiettivo Thanos. Gli umani sembrano decisi a difendere questa struttura. Distruggendola forse gli metteremo in fuga. La concentrazione di Icor in quest'area è ridotta e contenuta. Crea degli acceleratori di crescita su ogni campo di Icor per aumentarne la diffusione. Unità sottoperta. Nuove azioni di costruzione. In costruzione. Costruzione completata. Impossibile posizionare qui. Nuove azioni di costruzione. In costruzione. Costruzione completata. Nuove azioni di costruzione. La base. In costruzione. E riparazione. Costruzione completata. In costruzione. In costruzione. In costruzione. Costruzione completata. La base è su chi? Impossibile posizionare. In costruzione. Costruzione completata. E riparazione. Costruzione completata. E riparazione. Annullata. Annullata. In costruzione. In costruzione. E riparazione. Nuove azioni di costruzione. Struttura disattivata. In costruzione. Costruzione completata. Costruzione completata. Impossibile posizionare qui. In costruzione. Struttura attivata. Costruzione completata. In costruzione. La base è sotto attacco. Unità sotto attacco. Unità bassa. In costruzione. A costruzione completata. Obiettivo bonus raggiunto. Costruzione completata. Nuova opzione di costruzione. Anonimato. In costruzione. La base è sotto attacco. Unità sotto attacco. In riparazione. Adestramente. Adestramente. Costruzione completata. Costruzione in corso. In costruzione. Costruzione completata. In riparazione. In riparazione. La base è sotto attacco. In costruzione. In costruzione. In costruzione. In costruzione. In costruzione completata. No. La base è solata. Unità sottotata e riparazione. Inversizioni. Inversizioni. Fondi è sufficienti. E riparazione, e riparazione, e riparazione, e riparazione. Confedizione completata. La base è solata. Unità sottotata, unità persa. Addestramento. In costruzione. La base è solata. Riparazione. Confedizione completata. In costruzione. Fondi è sufficienti. E riparazione, e riparazione, e riparazione, e riparazione, e riparazione completata. La base è solata. In costruzione. In attesa. Annuncato. Costruzione completata. E riparazione. In costruzione. La base è solata. Costruzione completata. Costruzione. 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 In costruzione. Impossibile posizionare. Costruzione completata. Addestramente. In costruzione. E riparazione. Fondi insufficienti. Unità sottottata. Unità promossa. Costruzione completata. In costruzione. Costruzione completata. In riparazione. La base sottottata. In riparazione. In costruzione. Obiettivo bonus raggiunto. Fondi trasferiti. Costruzione completata. Netterra. In utente. A distruggiato. Inattesa. Annullato. In costruzione. In costruzione. Costruzione completata. In costruzione. Costruzione completata. Unità sotto attacco. In costruzione. Costruzione completata. In costruzione. In costruzione. Costruzione completata. Nuova opzione di costruzione. In costruzione. In costruzione. Costruzione completata. Impossibile posizionare. Nuove opzioni di costruzione. Addestriamento. La base è su. Unità sotto attacco. In riparazione. Unità con ossa. Un'intensurazione del costruzione. Abbranco. Unità con ossa. Ma in costruzione. Ma è in costruzione. Unità con ossa. In costruzione. Unità con ossa. Unità con ossa. E riparazioni, addestramenti. Unità sottopata. La base è sottopata. Unità rossa. Unità rossa. Unità rossa. Unità rossa. Unità rossa. La base è sottopata. Unità rossa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.